E al termine del match tra Agnardellese e San Biagio, terminata sul dato di 1-1, abbiamo con noi Alberto Boiocchi, responsabile di Agnardellese. Allora, Boiocchi, sicuramente una partita che lascia un po' di amaro in bocca per voi, partita dominata dall'inizio alla fine, avete suclassato i vostri avversari in maniera importante, peccato per la rete sfortunata sull'unico team in porta subito e poi c'è stata tanta protesta per le decisioni abitali. Ebbè, penso proprio che a questo punto io non sono ad uso a parlare male degli arbitri, per amor del cielo, anche perché sono irresponsabile o a che fare, però questa volta alcune decisioni ci hanno penalizzato. Poi se queste decisioni, vedi il fuorigioco che ha fischiato Ardemagni e poi in ripartenza ha fatto gol, ci ha penalizzato il doppio, questo qui è un fuorigioco clamoroso direi. E' per questo che ci resta un po' di amaro in bocca. Venendo alla partita in sé, sicuramente ancora una grandissima prova dei vostri giovani, la rete di Pedrinelli che si è sbloccata in campionato, i donati che entri al posto del capitano Vailati e fanno una grandissima parità al centro della difesa, insomma i giovani funzionano ancora? Ma certo, i giovani fanno parte della Gnadellese, poi noi dobbiamo fare di necessità virtù, sono nostri i giovani e noi li stiamo valorizzando. Il nostro mister sta facendo un buon lavoro e loro rispondono bene sul campo, secondo me. Certo, mancano di esperienza e questo qui magari ci penalizza un attimino, però noi siamo molto soddisfatti dell'operato del mister con i giovani e siamo soddisfatti. Nota positiva ai giovani, nota negativa, ancora agli infortuni, Vailati che esce ad inizio partita, Bellebono che si fa male a metà del secondo tempo e Ardemagna per nient'ato che soffre ancora di dolore al ginocchio, insomma la sfortuna continua da questo punto di vista. Sì, purtroppo dobbiamo prendere atto che è un periodo negativo sotto questo profilo. Mi viene in mente un detto che dice sempre bene non può durare, sempre male non può andare. Speriamo che sempre male non può andare e che ritorni un po' il sereno, perché sono sicuro che quando recuperiamo tutta la squadra, tutta l'intera rosa, forse allora comincia il nostro vero campionato. Ultima domanda, nonostante magari questi risultati che non vogliono dire ancora vittoria, resta comunque la serenità all'interno dell'ambiente, serenità che si è dimostrata anche oggi, nonostante magari il parigio sfortunato, resta comunque la tranquillità in Casagna dell'Ese. Ma forse è proprio questa la nostra forza, il fatto di restare tranquilli in questo periodo, forse anche un po' l'esperienza che abbiamo noi dirigenti, un po' di pazienza da parte anche dei giocatori, perché poi quando non arrivano i risultati è difficile tenere l'ambiente, è difficile starci in un ambiente. e secondo me stiamo facendo anche tutti insieme un buon lavoro, siamo coesi voglio dire, e lavoriamo tutti per un obiettivo, uscire da questa situazione e cominciare finalmente il nostro campionato. Ok, grazie mille.